Se vuoi essere il mio cliente, sei più puntuale. Cristian Vieri, 27 partite, 24 gol. Filippo Inzaghi, 25 partite, 20 gol. Davide Tresghietti, 24 partite, 20 gol. Zlatan Ibrahimović, 25 partite, 5 gol. Come faccio a venderti con questi numeri? Se avessi fatto 20 gol, anche mia madre mi farebbe da gente. Pensi di essere figo? Credi di impressionarmi col tuo reologio d'oro, con la tua Porsche, la tua giacca di Gucci? Non sei nessuno. Vaffanculo. Dici davvero? Io posso farti diventare qualcuno. Ma devi fare tutto quello che ti dico. Dovrai lavorare il triplo di così, è chiaro? E dovrai vendere l'orologio d'oro e la Porsche. Cameriera? Lo se so anche per lui.